Contro il Palermo la Lazio è tornata a giocare alla maniera che aveva caratterizzato il suo eccellente inizio di campionato. Una vittoria per 4 a 0 si commenta da sola. C'è da dire che gli atleti romani si sono impegnati al massimo per conquistare l'intera posta in una gara di fondamentale importanza nella lotta per non retrocedere. I bianco-azzurri sono passati in vantaggio dopo 10 minuti con Mazzola, servito di precisione da massa. Per Mazzola si tratta del suo primo successo stagionale. La reazione del Palermo è stata vivace e per un intervento di Wilson su Pellizzaro i siciliani hanno reclamato un rigore che l'arbitro non ha concesso. Sul rovesciamento di fronte la Lazio perviene al raddoppio. Massa su invito di governato si porta verso il fondo, rimette il pallone al centro dove Bertuolo e Debellis si ostacolano a vicenda favorendo l'intervento di Chinaglia. Il centravanti tocca a Ghio che d'esterno batte Ferretti uscito gli incontro. Il Palermo non si rassegna alla sconfitta e torna ad attaccare. Un colpo di testa di Landoni su punizione di Sgrazzutti e un tiro cross di Pellizzaro si perdono di poco sul fondo. Ma la Lazio vuole condurre in porto il successo e Chinaglia è il più pericoloso per la rete palermitana. Ci prova una volta ma fallisce il bersaglio di un soffio. La seconda però su cross di Ghio si produce in uno spettacolare colpo di testa ed è gol. Per tutto il secondo tempo la Lazio si limiterà a controllare i tentativi offensivi del Palermo e in questo periodo sarà il portiere di Vincenzo a recitare la parte di protagonista. Lo vediamo uscire con tempestività su un insidioso cross di Alario, bloccare a terra una puntata in avanti del terzino Giubertoni, fermare con sicurezza un colpo di testa di Pellizzaro e deviare in angolo un nuovo tentativo di Giubertoni. Operando in contropiede la Lazio riesce a ottenere il quarto gol. Chinaglia viene atterrato in area da Alario e l'arbitro Torelli accorda la massima punizione. È la prima che la Lazio si vede concedere dall'inizio del campionato e Chinaglia non fallisce il bersaglio. Grazie a tutti.